Il PIL della Puglia nel 2021 cresce di 6,6 punti percentuali rispetto al 2020 e il reddito disponibile delle famiglie nello stesso anno aumenta del 4,6%, un dato quest'ultimo che colloca la Puglia al secondo posto in Italia. Il focus sui dati diffusi dall'Istat nel dettaglio pone la Puglia ottava in Italia per prodotto interno lordo. Si passa dai 67,078 miliardi del 2020 ai 71,533 del 2021, un aumento di 4,455 miliardi, superiori in termini percentuali a quello del mezzogiorno, più 6%, e in linea con la crescita registrata a livello nazionale, più 6,7%, quanto al reddito delle famiglie assegnato per il complesso dell'economia nazionale una crescita del 3,7% rispetto al 2020. Buone notizie per la Puglia arrivano anche dalla spesa dei fondi arrivati dall'Unione Europea. A dicembre, infatti, è stata presentata dalla regione ai servizi specifici della Commissione Europea una nuova dichiarazione di spesa che per i fondi del Puglia, per gli anni 2014-2020, porta alla spesa complessiva ad aver superato abbondantemente i 4 miliardi di euro, pari al 95% della dotazione complessiva del programma, tra le altre cose. Il termine ultimo per spendere le risorse residue è fissato a livello comunitario al 31 dicembre 2023 ed è quindi probabile che la Puglia riesca a spendere interamente la propria dotazione. In un contesto gravemente segnato dagli effetti della guerra, la Puglia si colloca a pieno titolo in quella parte del paese, non solo del mezzogiorno, più reattiva e attenta a cogliere le opportunità presenti, ha spiegato il presidente della regione Michele Emiliano. Imprese, cittadini comuni, enti pubblici, università, enti di ricerca e di formazione costituiscono il capitale sociale di un territorio che guarda all'Europa con sempre maggiore consapevolezza del proprio potenziale e delle proprie possibilità.